Un video Mare Monti su Arte per Te! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te! Comincia la bella stagione e quindi cominciano i video che richiamino a questa parte dell'anno meravigliosa fatta di risveglio della natura, fatta di attesa per le vacanze fatta di belle giornate che si allungano quindi ho voluto celebrare la natura e salvaguardare la natura con un video di riciclo creativo che avesse l'oggetto delle piante e che richiamasse all'estate e al mare e allora ecco a voi le mie meduse con le bottiglie di plastica ho preso spunto per questo video da delle sculture di Murano che ho visto su internet e ho detto ma queste si possono fare benissimo con la plastica rendendole veramente un oggetto di design che aiuta la natura a vivere meglio e allora prima di spostarci sul piano da lavoro però mi raccomando clicca su iscriviti, sulla campanella, vienimi a cercare su TikTok, Instagram, Facebook e soprattutto sui miei altri due canali Ombretta e Due Corona K trovi tutti i link qui giù in infobox se poi ti rimane del tempo libero vienimi a trovare anche in libreria dove ti aspetto con il ricettario dell'arte il mio libro in cui ti spiego come creare tutti i materiali dell'arte homemade a casa con risultati davvero professionali adesso basta chiacchierare andiamo a creare le nostre meduse di primavera ed ecco l'occorrente per il nostro primo progetto dal sapore estivo barra primaverile allora delle bottiglie di plastica io ne ho qua una della mitica un'altra di un tè poi un'altra di fante insomma bottiglie di plastica da riciclare? prendiamole tutte per ogni bottiglia di plastica ci occorrerà una piantina aerea vedete sono queste piantine che vendono anche su Amazon sono molto belle e sono proprio delle piantine aeree queste non vanno interrate stanno a testa in giù e vivono assorbendo l'umido dell'ambiente e sono veramente belle io ne avevo, anzi mia suocera ne aveva un pallone intero gli è passito tutto non so come sia potuto accadere e abbiamo salvato queste qua poi io ne ho una veramente ormai da tanti anni che ho alloggiato vedete in un palloncino fatto di ovatta all'interno e all'esterno di muschio quello che si usa per i presepi l'ho avvolta qua dentro e era piccola così quando è arrivata e si è sviluppata tantissimo mi occorrerà un ferro da stiro ben caldo state attenti a non bruciarvi degli smalti per unghie dai colori che richiamino un po' il verde e un po' il mare ho del laccio per appenderla io qui ho della corda naturalissima oppure se avete del laccio in plastica da smaltire io ho questi rocchetti che sono appunto in plastica e devo dire che con i colori che ho ci stanno tanto bene quindi è possibile che io utilizzi uno di questi due ci occorrerà anche una fustellina per bucare la plastica questa è quella normale per la carta che riesce anche a forare la plastica delle bottiglie e naturalmente un paio di forbici e un tagliabalza e poi naturalmente del muschio che adesso non vedete perché io ho in garage e Gabriele è andato a prendermelo quindi lo avremo tra un po' e del cotone idrofilo iniziamo subito e prendiamo le bottiglie tagliamo la parte superiore delle bottiglie e poi ecco qua è arrivato il muschio questo, quello che serve per i presepi io lo utilizzo per avvolgere le radici della piantina quelle che potrebbero essere delle radici che la piantina comunque non ha quindi per un vero vano di accoglienza un serbatoio di umidità muschio a questo punto sfruttando anche la presenza del tappo che fungerà da buon manico con il ferro caldo andrò a fare questo lavoro poggio e alzo poggio e alzo questo porterà la plastica a incurvarsi verso l'interno e a smussare un pochino il bordo vedete come si chiude all'interno e diventa morbidissimo vedete si è piegata lì dentro ed è tutta morbida quindi non vi taglierete più passandoci sopra il dito faccio così con tutte le bottiglie che ho tagliato a questo punto da una delle bottiglie che avremmo conservato una delle tre recuperiamo tre pezzetti almeno un pezzettino di plastica per ogni capocchietta che abbiamo fatto per ogni parte col tappo ok e tagliamola in forma tondeggiante quindi smussiamo gli angoli e facciamo un cerchio non importa che sia un cerchio perfetto l'importante è che abbia appunto una forma tondeggiante così non so se riuscite a vederla spero di sì olè e ne facciamo tre in ognuno di questi cerchietti ora devo praticare due forellini e allora cosa faccio piego a metà il cerchietto così lo infilo in una fustellatrice quella per fare i buchi e i fogli per intenderci voilà e pratico un buco una pressione secca e quello che verrà fuori vedete saranno due buchi e faccio questo in tutti e tre i miei tondini adesso con molta calma dobbiamo eliminare la parte dell'imboccatura della bottiglia e del tappo che non ci serve voilà allora prendiamo le nostre tre medusine e vestiamole di colori marinari o marini più che marinari no marinari no marini prendo del blu e inizio a colarlo sulla mia medusa prendo un colore sempre col blu un po' più chiaro e do un secondo giro e poi delle macchie quella e poi magari stiro perché voglio che rimanga un po' la trasparenza mescolo i due colori e poi faccio cadere qualche goccia quella di tutti i colori che voglio metto un po' di verde e la sposto per farla asciugare per poi poterla fare staccare se asciugasse qui non si staccherebbe più riposo lei la faccio ben girare e anche lei la dipingo tutta questa volta magari questa sarà maggiormente verde l'euro 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stupende. Lasciamole asciugare per bene, spostandole di posto ogni tanto in modo che non si attacchino sul substrato cartaceo. Mentre le teste delle nostre meluse stanno asciugandosi, noi prepariamo le nostre piantine. Allora, prendiamo del muschio, prendo del cotone idrofilo e lo bagno e lo strizzo e ne faccio una palletta. Così. Quindi, su questa palletta, infilo, vedete così, la piantina e comincio a pressare contro il muschio. Prendo un po' di filo, questo lo faccio col filo verde e comincio ad avvolgere uno. E due. E taglio l'eccesso. Adesso devo fare il laccio per appenderla. e lo faccio passare da qualcuno di questi fili, così. Tiro, tiro, tiro e faccio un bel nodino. E preparo così tutte le mie piantine. Una volta fatte le piantine, una volta che le meluse stanno asciugandosi, io coloro anche la parte esterna dei tappini col colore preponderante di ognuna delle meluse. Per esempio, ne avrò una più verdina. Allora, non è importante colorare questi pezzetti, potete lasciarli anche trasparenti, ma voi sapete che poi a me piace curare anche i particolari. Prendiamo la piantina e facciamo passare ognuno dei due capetti da uno dei fori che abbiamo praticato su questi pezzettini. Uno, facciamo scorrere ben bene. Quindi, pratichiamo un bel nodo. È arrivato il momento di assemblare le meluse, che ancora non sono del tutto asciutte. Voi aspettate che lo siano. Allora, infiliamo. Ed eccola qua. Guardate che carina. Non è deliziosa e lei sta appesa così. Quindi, se volete, potete dare un punto di colla a caldo sul dischetto, in modo che si agganci perfettamente, sia assolutamente fermo sulla capocchia della medusa. Ma guardate che bella. Et voilà. Ora, ragazzi, ve le faccio vedere appese perché così non si capisce davvero nulla e vedrete quanto sono belle. Vi lascio a un video delle meluse appese alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Buona aria di mare e di campagna. E' un video mare-monti, ma spero che vi sia tanto piaciuto. Fatemelo capire con un bel pollice in su. Vi lascio alle foto. Ciao! Ditemi se non fa subito atmosfera di design super chic. Ve le invidieranno tutti. Le piantine, se non le avete, si trovano facilmente su Amazon. Vi metto il link qui giù in info box. Sono veramente bellissime. Ce ne sono di diversi tipi. Io ho queste perché mi sono state date da mia socia. Infatti una melusa la terro io, quella col nastro doppio, in doppio colore. E le altre due le restituirò a lei che mi ha dato appunto la piantina e quindi mi ha dato la possibilità di diffondere questa idea. Pensate quante bottiglie potrete riciclare per farne qualcosa di bello anche da regalare. E' una bellissima idea regalo. Se questo video vi è piaciuto pollice in su, condivisione e noi ci diamo sempre appuntamento qua per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta. Ciao, condividi il video.